eccoci qua allora andiamo a vedere un attimino come sono messi con con i mondi ma quello lo so però voglio vedere anche quello tetro come rosso questo madonna come sta crescendo guardalo bellissimo se abbiamo della terra bagnata pensi si può anche allungare volendo aspetta che prendo anche della terra secca no ce l'ho già ma andiamo a vedere l'altro mondo cavolo mia preso è buono voglio evitarti occhio non ti voglio uccidere non c'è male e lo so deve ancora prendere l'altra parte però arriva non passare qui in mezzo vedi questi blocchi qua si si lo so quelli fanno male lo so lasciali che sono come ornamenti si si bene allora cosa si può fare ma intanto papi mostro quello che posso sono andato a traspare guarda il piccone eh lo voglio anch'io di ferro no eh eh allora aspetta non lo so se c'è ancora però allora oddio posso trovare una zombie banner aspetta che l'ho lasciato ah hai visto i modifici della casa papi no adesso vengo a vedere oh già intravedo un pochino vai a vedere lì a fianco oh bello qua ci sono tutte le ceste disponibili qua ci sono le varie macchine macchine per cosa? eh tessili tessili? tessili si e cosa ci faccio? ah che ne so io qualcosa questo sto guardando tra i crafting se cambia qualcosa ma no papi eh ti ricordi con l'ametista con la pietra fucsia? si eh signor ti dicessi che ho questa che cos'è? è una è una è una come si dice è un bastone è probabilmente fatto con l'ametista che ti fa sparare questi qua lo voglio anch'io consumando del mana lo voglio anch'io e allora devo vedere quanta ametista c'è ancora disponibile 17 papi forse te la posso fare beh se 17 porta una fortuna guarda ma ma che cazzo è? cosa? eh eh niente allora eh vedo eh sto guardando ma mi sa di no 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 per di no eh eh no eh no papi facciamo una cosa ignorantissima tipo? ma lo vedi quello che ho sopra la testa per caso si vede? si oh che figo ma cos'è? allora praticamente c'è scritto poi adesso non lo so ti è scritto eh per catturare la gemma che rilascia quando si muore lo prendo io dove tu? no tranquillo andiamo di qua andiamo a scavare di qua andiamo a vedere cosa c'è di nuovo eh ti faccio l'ennesimo dono che mi dovrei poi rimborsare cos'è? tu spara tu spara ah che figo consumo mana eh poi lo riportalo vabbè però dopo la ripristini no? si si ripristina guarda che ci sono anche le pozioni eh si 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 andiamo andiamo? andiamo andiamo giù di qua e vediamo cosa c'è sento rumori strani eh papi tap tuk tap tuk ah lo senti strano? ti molestano? ah perché sono cresciute delle zucche qua? non lo so papi tenta che sento un verme sarai tu che cammini no non ne so